In questo video mettiamo in pratica i concetti visti nel video Linux, utenti, gruppi e permessi. Quindi, se non hai ancora visto quel video, ti consiglio di guardarlo prima di questo. Dopodiché giochiamo anche un po' con le variabili d'ambiente. Prima di continuare, ti ricordo che io faccio video dove parlo di Linux, di programmazione e di retrocomputing. Se questi argomenti ti interessano, iscriviti al mio canale, attiva la campanella, commenta e metti un like a questo video. Nelle directory scaricati, ho scaricato un file AppImage, che se segui i miei video sai che si tratta di un software eseguibile. Come puoi vedere, però, il file non ha il permesso di esecuzione. Per cambiare i permessi ad un file, il comando da dare è chmod, che ha due modi differenti di operare. Il primo modo serve ad aggiungere o togliere uno o più permessi, mantenendo gli altri invariati. Per esempio, se voglio aggiungere il permesso di esecuzione solo per il proprietario del file, scriverò chmod u, che sta per user, cioè il proprietario del file più, che significa aggiungi il permesso e x, che significa permesso di esecuzione seguito poi dal nome del file. Nota, come rispetto a prima, l'unico permesso cambiato è quello di esecuzione da parte del proprietario mentre tutti gli altri sono rimasti invariati. Per questo primo modo, quindi, abbiamo la lettera u, che come abbiamo appena visto significa user, la lettera g, che significa gruppo, la lettera o, che significa other, cioè gli altri, ed infine la lettera a, che significa all, cioè tutte le tre insieme. Il simbolo più serve ad aggiungere un permesso, ed avrai intuito che il simbolo meno serve invece per togliere un permesso. La lettera x abbiamo appena visto che si tratta del permesso di esecuzione, sta per execute. La lettera w indica il permesso di scrittura, in inglese write, mentre la lettera r indica il permesso di lettura, in inglese read. Possiamo anche combinare una o più di queste lettere. Per esempio, se voglio togliere i permessi di lettura e di scrittura al gruppo e dagli altri, scriverò chmod, g per il gruppo, o per gli altri, meno per togliere i permessi, r per la lettura e w per la scrittura, ed infine, ovviamente, il nome del file. Nota come non è un errore togliere i permessi che non c'erano già in partenza e non è nemmeno un errore aggiungere un permesso che c'era già prima. C'è anche un secondo modo di operare di chmod, che è quello che preferisco, cioè invece che andare ad aggiungere o togliere i permessi già esistenti, imposti direttamente tutti i permessi che vuoi, dando semplicemente un numero di tre cifre. E funziona in questo modo. Il permesso di esecuzione vale 1, il permesso di scrittura vale 2 e il permesso di lettura vale 4. Nessun permesso ovviamente vale 0. Ora, basta sommare i permessi che vuoi ed ottieni una cifra tra 0 e 7. La prima cifra indica i permessi del proprietario, la seconda cifra indica i permessi del gruppo e la terza cifra indica i permessi degli altri. Facciamo un esempio. Se voglio dare il permesso di lettura, scrittura ed esecuzione al proprietario, i permessi di lettura ed esecuzione al gruppo ed il solo permesso di lettura agli altri, scriverò CHMOD Cifra per l'utente, tutti i permessi, quindi 4 per la lettura più 2 per la scrittura più 1 per l'esecuzione fa 7, quindi scrivo 7. Poi cifra per il gruppo, 4 per la lettura più 1 per l'esecuzione fa 5. Cifra per l'esecuzione, sola lettura, quindi 4. Alla fine, sempre il nome del file. Piccola parentesi tecnica. Questo sistema numerico si chiama OTTALE perché utilizza le 8 cifre da 0 a 7 e di un modo per esprimere in maniera concisa gruppi di 3 bit alla volta. Fatto sta che ora abbiamo il permesso per eseguire questo file, ma se provo a fare completamento con TAB, la shell non mi completa il comando e anche se lo facessero comunque non riuscirei a eseguire il programma. Perché? La risposta sta nel fatto che la directory corrente non è nel path, ma per capire cosa significa questa affermazione, dobbiamo capire prima di tutto che cos'è una variabile d'ambiente. Ma prima ancora, cos'è una variabile? In un linguaggio di programmazione, una variabile serve per contenere dei dati e dai un nome a questa variabile per accedere ai dati contenuti in essa. Si chiama variabile perché oltre che andare a leggerne i dati, posso anche modificare i dati contenuti nella variabile e quindi variarne il contenuto. Una variabile d'ambiente, quindi, non è nient'altro che una variabile che ti imposti dalla shell e rendi disponibile sia alla shell che ai vari programmi che esegui. Molte variabili d'ambiente hanno un ruolo particolare. Per esempio, la variabile path indica alla shell quale directory andare a cercare gli eseguibili. La variabile editor che imposta l'editor predefinito. Lang che imposta la lingua da utilizzare nei programmi. Home che contiene il path della home directory dell'utente corrente. pwd che contiene l'editor ricorrente. E, specifica per la shell bash, la variabile ps1 imposta il prompt. Per accedere al contenuto di una variabile d'ambiente, uso il simbolo $ prima del nome della variabile. Se voglio vedere il contenuto della variabile path, quindi, uso il comando echo, poi il carattere $ seguito dalla variabile che voglio utilizzare, in questo caso path. Anche se non è obbligatorio che sia così, per convenzione le variabili d'ambiente hanno il nome tutto maiuscolo. Ma torniamo al nostro path. Vedi che contiene una lista di directory separate dal carattere due punti. Nota come non sono presenti né le directory scaricati, ma soprattutto non è presente la directory punto, che ti ricordo che significa la directory corrente. Questo è per ragioni di sicurezza. Immagina se qualcuno scrive un programma dannoso, lo chiama ls e lo mette nella tua home directory. Se la tua home directory oppure il directory corrente fossero nel path, allora quando tu scrivi ls, invece che vedere il contenuto della directory, eseguiresti il programma dannoso. Come fare quindi per eseguire un programma che non è nel path? Basta solo far precedere il nome dell'eseguibile alla directory in cui si trova. Valgono anche le scorciatoie, quindi se l'eseguibile si trova nella directory corrente, scriverò punto per indicare la directory corrente, barra come separatore directory ed infine il nome del file. E vedi che questa volta il programma è stato eseguito correttamente. Ti ricordi nei primi video quando dicevo che rinchiudere un argomento tra singoli oppure doppi apici cambiava quasi niente? Ecco, parliamo di questo quasi. Proviamo a racchiudere la variabile path tra doppi apici, usando il nostro bel comando echo. Vedi che viene passato al comando il contenuto della variabile. Proviamo ora a fare la stessa cosa con i singoli apici. E qui vedi che viene passata al comando la stringa $path. Quindi è questa la vera differenza tra racchiudere un parametro tra singoli oppure doppi apici. Cioè se vogliamo passare come parametro il contenuto di una variabile d'ambiente oppure vogliamo passare una stringa che al suo interno contiene il carattere $. Tutto molto bello, ma se la caratteristica di una variabile è quella di essere variabile, come faccio a cambiare il contenuto di una variabile d'ambiente? Nella shell bash, per settare una variabile d'ambiente, il comando da dare è export, poi il nome della variabile senza dollaro, per esempio editor, simbolo uguale per indicare che stiamo assegnando un contenuto e poi il contenuto della variabile, per esempio vim. In questo caso la variabile rimane settata fino alla fine della sessione corrente della shell. Quindi, se chiudo questo terminale e lo riapro, il contenuto della variabile che abbiamo appena settato andrà perso. Per settare permanentemente delle variabili d'ambiente, basta andarle a settare nella stessa maniera che abbiamo fatto adesso, però scrivendole nel file .vashrc. Può capitare a volte che hai bisogno di settare una variabile d'ambiente solo per un comando specifico, al termine del quale il valore di quella variabile torna ad essere quello precedente. Facciamo un esempio. Se io do il comando ls-help, vedi che molte stringhe sono in italiano. Se voglio cambiare lingua solo per una volta, do il comando env, seguito dalla variabile che voglio settare, quindi lang, carattere uguale, poi la C maiuscola indica la lingua di default con cui è stato compilato il programma, e poi do il resto del comando, quindi ls-help. E vedi che ora le scritte sono tutte in inglese. Cambiare temporaneamente lingua ad un programma è utilissimo nel caso in cui ti ritrovi con un messaggio d'errore. Solitamente, su internet, trovi più risorse in inglese che non in italiano. Quindi, eseguire temporaneamente un programma in inglese ti permette di avere il messaggio di errore in inglese. A questo punto, puoi fare copia e incolla del messaggio di errore nel tuo motore di ricerca preferito, ed avrai più probabilità di trovare la soluzione a quell'errore. Come bonus, voglio lasciarti un trucchetto che ho trovato nel sito di Brian Lunduk. Se scrivi questa sequenza nel terminale, ti ritroverai con un prompt simile a quello del DOS. Non sto a spiegarti in questo video del perché funziona, ma se vuoi maggiori informazioni, ti lascio link in descrizione per un approfondimento. Ti basta sapere, per il momento, che stiamo andando a cambiare la variabile d'ambiente PS1 che è il prompt di Bash. Grazie dell'attenzione. Ti ricordo che trovi i miei video sia su YouTube che su Odyssey. Trovi tutti i link in descrizione. Al prossimo video. Ciao!